Buongiorno e benvenuti all'Erbolario. Mi chiamo Isabel e oggi scopriremo insieme perché l'esfoliante è un prodotto così importante per risvegliare la luminosità della pelle. Che sia secca, normale, mista o grassa, ogni volta che tocchiamo il nostro viso entriamo in contatto con la parte più esterna della pelle che si chiama strato corneo. Questa zona è costituita da un insieme di cellule superficiali la cui funzione essenziale è quella di proteggerci dalle aggressioni esterne e aiutarci a trattenere l'idratazione nella parte più profonda della pelle. Quando la quantità di queste cellule diventa eccessiva però il viso diventa grigio e spento, la grana irregolare e la pelle meno ricettiva alle creme e ai prodotti che applichiamo ogni giorno. Un esempio semplicissimo possiamo farlo utilizzando un pezzetto di nastro adesivo trasparente. Applichiamolo sul dorso della mano facendolo aderire bene. Rimuoviamolo e ora guardiamolo in controluce proprio come quando eravamo bambini. Quello che notiamo è proprio lo strato di cellule keratinizzate che toglie luminosità e splendore al nostro viso. Ecco perché 1-2 volte la settimana è importante l'utilizzo del gommage al bois de panama. Grazie all'azione di microgranuli naturali questo esfoliante elimina tutte le impurità e le cellule superficiali che rendono la pelle spenta ed opaca. Applichiamo una noce di prodotto su viso pulito e inumidito. Massaggiamo con delicatezza con lievi movimenti circolari per un minuto evitando il contorno a occhi e risciacquiamo. Utilizzato regolarmente moltiplica l'efficacia dei principi attivi contenuti nei sieri, nelle creme e nelle maschere e se lo usiamo anche in estate prepara la pelle a un'abbronzatura più uniforme e duratura. Se desideriamo un'azione purificante ancora più efficace subito dopo l'esfoliante possiamo applicare la maschera viso all'argilla e alla propoli. Utilizzata in modo regolare la sua azione opacizzante e purificante riduce la formazione di punti neri e rende i pori dilatati meno visibili. Applichiamo quindi uno strato uniforme e abbondante di maschera su tutto il viso e lasciamola in posa. Dopo 15 minuti risciacquiamo, applichiamo il tonico e il trattamento più adatto al nostro tipo di pelle. In questo modo la crema si assorbirà più rapidamente e i benefici saranno ancora più visibili.